Siamo qui in diretta al Kennedy Stadium, seconda giornata, Super Serie A, UA Inter, le squadre Formazioni a saltare, i provi di fu, le squadre che passano a darti il 5, abbiamo un incontro già lì Siamo arrivati alla prossima, siamo arrivati alla prossima Siamo arrivati alla prossima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.